Il governatore del Veneto, Luca Zaia, la sua battaglia l'ha vinta con quattro ore di anticipo. La rilevazione dell'affluenza alle 19 confermava G il superamento del quorum del 50% necessario per considerare valido il referendum sull'autonomia. Alla fine il dato si attesta sul 57.3%. Il suo omologo lombardo, Roberto Maroni, ha festeggiato al traino, stimando attorno al 40% la partecipazione dei propri elettori in Lombardia non era comunque previsto il quorum e lo stesso leader leghista aveva detto di considerare soddisfacente una quota superiore al 34% pur non potendo mostrare fino a notte fonda alcun dato ufficiale. La raccolta dei dati attraverso le voting machine, alla prima prova, non ha dato i risultati sperati e gli stessi scrutatori hanno lamentato le inefficienze del sistema. Il governo pronto a trattare in entrambi i casi. Il risultato stato come da previsione. Con esse tra il 95% e il 98%. Il segnale politico in ogni caso c'è stato l'affluenza stata superiore rispetto a quanto i detrattori della consultazione si immaginavano fino alla vigilia, e lo stesso governo ne ha preso atto. Il sottosegretario per gli affari regionali, Gian Claudio Bressa, a meno di un'ora dalla chiusura dei seggi ha fatto sapere che l'esecutivo pronto ad una trattativa. Il modello star probabilmente quello sperimentato nel rapporto con l'Emilia-Romagna. Che ha gi' avviato un confronto con Roma senza passare dalla tappa referendaria. Il big bang delle riforme a Zia ha gi' fatto sapere di non voler perdere tempo e di essere pronto ad andare all'incasso con il governo. Vogliamo che i nove decimi delle tasse restino nella nostra regione ha detto il presidente della giunta regionale del Veneto questo il big bang delle riforme. Una vittoria dei Veneti e dei nuovi Veneti. Sulla stessa linea Roberto Maroni. Che conta di presentare una proposta al governo entro due settimane e annuncia di volere coinvolgere una squadra aperta anche a esponenti di altre forze politiche. Facendo espressamente il nome del sindaco PD di Bergamo. Giorgio Gori. Chi ha votato di Pise davvero sarà stata una giornata storica lo si capirà solo alla fine dell'ite. Quando, dopo la trattativa con il governo, sarà chiaro quante e quali materie di competenza statale passeranno di mano. Ma la prima prova, quella referendaria, stata superata, in Veneto, dove l'iniziativa referendaria era stata varata dal Consiglio regionale all'Unanimit. La provincia che ha fatto registrare il maggior numero di votanti stata quella di Vicenza. Con punte vicino al 70%. Seguita da Padova e Treviso. In Lombardia, invece, la palma dei Pi sensibili e il richiamo referendario toccata ai bergamaschi. Il sindaco del capoluogo, il PD Giorgio Gori. Aveva invitato a votare esse. Seguiti dalle Chesi e Bresciani. In fondo alle rispettive classifiche. Si trovano Venezia e Milano. Come se il tema dell'autonomia faticasse a sfondare nelle cite metropolitane. L'altol di Meloni al DL della Lega. Che si intesta il successo avendo la primogenitura della battaglia. Nel coro di politici che si dicono soddisfatti per l'affluenza ci sono Deborah Serracchiani. PD. Renato Brunetta. Forza Italia. Gaetano Quagliariello. Idea. Stefano Parisi. Energie per l'Italia. Giovanni Endrizzi. M5S. L'unica stecca nel coro quella di Giorgia Meloni. Per la Presidente di Fratelli d'Italia i referendum non sono stati un plebiscito. Le riforme si fanno tutti insieme e non a pezzi. La partita ora si sposta sul piano istituzionale. I referendum erano consultivi. Servivano Maroni e Zaia per avere maggiore forza nella trattativa che la Costituzione prevede. Con il governo, nei prossimi giorni i rispettivi consigli regionali daranno mandato ai presidenti di procedere. I tempi sono stretti. Alpi tardi tra fine gennaio e met febbraio il confronto con Roma entrer nel vivo. Altro su MSN. Tutto quello che ci da sapere sul referendum per l'autonomia in un minuto e mezzo. Corriere TV.